le richieste di una seconda stagione sono state veramente tante e allora come potevamo non accontentare i nostri ascoltatori cari amici di prima pagina riparte la voce di ortona con le puntate della seconda serie riprenderemo il tema della ortonesità con personaggi storici con video che riprendono momenti di vita ortonese con racconti di vita fatti direttamente da chi li ha vissuti insomma puntate da non perdere molto presto ripartiremo con l'appuntamento del sabato pomeriggio se questa cosa vi fa piacere ditecelo nei commenti e non dimenticate di mettere un like grazie a tutti e buone feste di natale a presto